di nuovo ben trovati go traveler su quale miglior periodo se non quello natalizio per viaggiare soprattutto per poter esplorare mete che tenevamo nel cassetto da un po una di questa può essere proprio la Namibia oggi parleremo di questa meta affascinante in cui quella che è la cultura africana convive però con quella tedesca come ex colonia e ne parliamo insieme al nostro tour operator di fiducia Ludovico Scortichini di nuovo grazie per essere con noi buonasera Giulia buonasera ovviamente a tutti i telespettatori dunque dicevamo è un mix di culture questo paese come abbiamo visto in tantissimi altri paesi africani del resto visto anche il periodo della colonizzazione però partiamo da quello che nasce da questo mix e quello che i turisti possono sperimentare sì assolutamente un paese straordinario un paese che rispetto peraltro al panorama africano dà tutta una serie di qualità e nei servizi tranquillità nei confronti del viaggiatore ma soprattutto anche semplicità nel viaggiare a questo incredibile paese perché nel contesto soprattutto dell'Africa australe l'inserimento chiamiamolo in maniera soft quindi nel periodo della colonizzazione tedesca che come tutte le colonizzazioni ovviamente non sono state poi così soft ma per fortuna in questo caso poi invece il secondo passaggio quindi la seconda generazione è stata assolutamente invece priva di grandi contrasti priva di guerre purtroppo anche civili come sono stati negli altri paesi e quindi questa cosa ha fatto sì che questo equilibrio no poi tra la presenza di noi bianchi e la presenza invece ovviamente dei locali è stato talmente ben gestito dove oggi si può visitare l'area bibbia con molta tranquillità ripeto dove ci sono solamente problemi di delinquenza ma soprattutto con un'organizzazione che potremmo dirla veramente teatronica veramente efficiente ed efficace perché hanno saputo ben interpretare quali sono i migliori asset del paese quindi le cose più belle da vedere in un concetto di turismo organizzato assolutamente molto molto ben organizzato e diciamo subito che è un paese che offre veramente tantissime possibilità dal punto di vista delle escursioni c'è il deserto c'è la possibilità anche di immergersi in quella che è la cultura locale incontrando proprio etnie autoctone ma anche visitare le città e il tutto lo diciamo può sembrare anche strano forse un caso un unicum quasi per i paesi africani siamo abituati a queste grandi distanze ma in realtà è possibile visitare il paese anche direttamente girando in auto assolutamente sì e questo è un po' la forza della Namibia no dove mettiamo insieme come tu giustamente hai detto tutta la parte più bella quindi dai deserti all'aspetto chiaramente faunistico con gli animali di taglia grande mettiamo insieme la parte etnografica e etnologica con queste etnie che ci sono tante etnie ma una che è la più bella sicuramente poi ne parleremo sono gli imba nello stesso tempo queste cittadine molto belle molto ben curate che esulano un po' da quello che uno si immagina delle città africane dove invece tendenzialmente sono caotiche pericolose difficili da poter viaggiare in un po' di vista individuale bene tutto questo insieme a questo incredibile e bellissimo deserto che forse ne parleremo più tardi è forse un deserto il più bello del mondo fa sì che questo paese dove tutti i luoghi più interessanti sono paradossalmente fatti a forma di anello quindi si entra da window che che è la capitale si asce da window che girando ma veramente il senso circolare il paese e quindi anche da un punto di vista proprio della fruizione è facile tant'è vero che noi a condizioni che siano clienti abbastanza ben preparati anche da un punto di vista della guida possiamo anche suggerire di farlo da soli anorleggiando una macchina magari con il nostro supporto per gli appoggi per quanto riguarda il risorto o comunque per dove andare a dormire però è uno pochi mesi dove oggettivamente in afro-costale si può visitare a volendo anche da soli e allora cominciamo a girare metaforicamente ovviamente partendo proprio da quello che ci dicevi poco fa no quindi le bellezze naturalistiche assolutamente la prima bellezza indiscutibile indiscutibilmente si chiama parco e toscia uno dei parchi più belli ma soprattutto più grandi di tutta l'africa australe pensate che ci sono 114 tipi di mammiferi diversi tipologie di mammiferi diversi quindi un parco dove inevitabilmente rappresenta l'estrema sintesi tutto ciò che si può vedere nell'africa australe dal punto di vista di animali soprattutto quelli di taglia grandi quindi pensate immaginato no migliaia di giraffe migliaia d'elefanti migliaia di roceronti come dire tutto peraltro con una facilità incredibile perché si si fanno queste piste battute con la macchina che poi ripeto possa essere bravo a guidare da sola ma se non altro con l'aiuto di una guida di un ranger e dal tuo finestrino vedi passare queste migliaia migliaia di animali con una facilità veramente incredibile perché perché in quest'area soprattutto per effetto delle piogge si incontrano veramente decine e decine di migliaia di animali quindi da zebbre a giraffe bufali d'acqua fondamentalmente potete vedere veramente tutto e questo individualmente è la prima highlights forse più bello di tutto il paese immersione diciamo nella natura africana e poi ovviamente sempre per questa parte diciamo così più wild del viaggio è impossibile non parlare anche dei deserti e soprattutto per chi poi vuole raggiungere la costa e gli spettacoli gli scenari veramente unici che questo paese regala assolutamente sì io credo che non ci sia persona che ci sta guardando che non abbia mai visto un'immagine del deserto del nabib che è il deserto più antico del mondo innanzitutto quindi viene caratterizzato anche da questo aspetto ma soprattutto è uno dei deserti dove ci sono le dune più alte del mondo e le dune che sono queste incredibili montagne fatte di sabbia lì assume una connotazione particolare perché sono tendenzialmente molto a roccia un arancione molto acceso che quasi tende a rosso specialmente poi all'alba ma soprattutto a maggior ragione al tramonto e queste dune che sono infinite incredibili gigantesche sono veramente un delle immagini più ricorrenti per tutti gli amanti dei viaggi quando si parla di deserti ovviamente qual è la cosa più bella è a prenderne una se ne è una abbastanza particolare ma so su play che è una che è alta quasi due o trecento metri diciamo che una duna veramente particolare e quindi scalarla o meglio camminare sulla sabbia con una fatica pazzesca e avere questa grande incredibile colpo d'occhio a perdita veramente d'occhio scusate la ripetizione di tutte i deserti fino a arrivare ovviamente alla parte del mare perché in questo caso il deserto è uno dei pochi posti al mondo lo al mondo dove il deserto finisce sul mare e lì c'è questo come dice questo spettacolo si chiama skeleton coast dove per effetto della nebbia che si crea per i contrasti della dell'acqua della temperatura dell'acqua e della terra si formano delle nebbie dove ci sono gli scheletri appunto di decine e decine di navi che sono inevitabilmente poi invece purtroppo fermate e sono andata a finire purtroppo a terra e li sono rimasti sono fermato il loro viaggio diciamo inavvertitamente e per quello che invece riguarda una delle popolazioni autoctone di cui ci facevi c'è no prima l'imba ecco anche qui sicuramente ci sarà capitato no di vederli in qualche immagine perché sono veramente una popolazione caratteristica di questo territorio molto belli anche dal punto di vista estetico e soprattutto per no la colorazione che che hanno nei capelli e non solo questi questi imba sono sicuramente sono quelle immagini di donne verità sono anche io ma le donne assumono una bellezza pazzesca perché perché in verità hanno questi tratti somatici che non sono smarcatamente molto africani ma soprattutto cospargono la loro pelle da sempre quando sono piccole di questa specie di burro anzi brindava un vero proprio burro e una sorta di argila rossa e fan sì che questa pelle è talmente bella talmente lucida incluse anche i capelli che sembrano un po delle maschere quasi d'argile sembra quasi delle donne d'argile quindi è una popolazione estremamente interessante dal punto di vista antropologico e si fanno ovviamente fotografare come tutte le lettrie in maniera abbastanza appariscente no perché sanno che sono molto molto apprezzate e la cultura estremamente interessante perché loro continuano a tenere questo questo come dire questo approccio estremamente wild nonostante una presenza veramente massiccia dei turisti e sono le poche etnie dove oggettivamente nel corso dei decenni specialmente ripeto con l'incontro di un anno assolutamente modificato nulla quindi rimangono ancora veramente genuine in tutta la modalità della vita anche quotidiana abbiamo detto la possibilità appunto di girare per chi lo volesse anche in auto da soli e soprattutto la possibilità anche no di visitare le città adesso abbiamo parlato di quella che è la parte più wild più realistica forse più come potremmo dire autentica no di questo paese ma c'è anche la possibilità di visitare le città assolutamente c'è una carinissima si chiama svak mund e che sembra un pezzo di barriera paradossalmente quasi spostata in africa anche se poi in verità questo contesto è stato oggettivamente un po' ammorbidito dalla cultura e dall'architettura africana però cittadina bellissima con tutta una serie di negozi negozietti boutique quindi sempre stare veramente una città europea però magicamente sempre inserito in un contesto africano con tutta la parte ovviamente della cultura africana quindi culta pitture ceramiche quindi anche tutta la parte se voglia musica tutta la parte artistica nel mondo africano ed è veramente una città piacevolissima perché ecco questa è una cosa bisogna dirla è una delle poche città africane dove si può girare veramente da soli anche per noi bianchi senza nessun problema senza incontrare chiaramente ecco delinquenza o persone che ovviamente danno noia questo purtroppo è una cosa abbastanza rara nell'africa australe e la nabibbia veramente uno dei pochi paesi dove queste cose si possono fare senza nessun problema abbiamo ancora qualche minuto quindi parliamo di logistica per quello che riguarda questo tutte queste tappe no di tutti ci ha parlato a livello di tempistica ma bastano 10 12 giorni per fare un viaggio abbastanza completo poi per chi ha un po di tempo in più e quindi riesce ad avere qualche giorno per soffermarsi se più amante della parte etnologica nelle tribù di yimbo di altre mie si piace più la parte invece faunistica chiaramente parco e toscia o altri parchi privati più piccolini e quindi si può anche allungare ma fondamentalmente in 10 11 giorni si visita tranquillamente il paese l'unico piccola nota dolente che è un paese inevitabilmente essendo unico particolare tutto funziona dove risorto sono bellissimi eccetera eccetera è inevitabilmente un po più caro rispetto ai competitor che sono a fianco quindi la nota ripeto un po dolente che da un punto di vista di prezzo crediamo che si faccia sia abbastanza difficile spendere meno di 3.000 3.500 per un viaggio autogestito quindi con la macchina a noleggio ma senza guida e senza ranger e si arriva invece ai 4 4.500 fino a punte di 5.000 secondo ovviamente della tipologia di risorte che si scelgono o di loggie che si scelgono per esempio per un viaggio di 10 12 mila euro questo eventualmente va detto ma come sempre io ripeto che la qualità specialmente in questi contesti purtroppo si deve assolutamente pagare perché poi da veramente un grande valore aggiunto al viaggio sicuramente si può stare anche più tranquilli quindi questa è la Namibia il nostro suggerimento per il vostro prossimo viaggio io ringrazio Ludovico Scortichini di Go World grazie davvero noi ci fermiamo io vi ricordo che per tutte le tappe che vi raccontiamo ogni settimana è possibile ripescare le diverse puntate anche direttamente dai social e dal sito di di Go World e del TV Mark vi ringrazio dunque per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima settimana arrivederci grazie a tutti